Una vittoria che ci voleva nel momento giusto, poi tra l'altro perché in un momento difficile per il Pescara, dopo una sconfitta così rotonda contro il Crotone, ci voleva questa prestazione e soprattutto il risultato. La prestazione è stata figlia di un momento difficile, per cui la squadra si è difesa con ordine e con un pizzico di fortuna anche nel finale ha vinto la partita. Sono punti importantissimi questi, magari non pienamente meritati, ma che contano. 3-5-2 che potrebbe essere il modulo che vedremo allo Stadio Adriatico nelle prossime giornate o si può tornare a un 4-3-3? È chiaro che la squadra deve avere, secondo me, anche una fase propositiva, cosa che non c'è stata ad Ascoli, ma per ovvi motivi, come ho detto prima, era giusto fare così. Adesso è chiaro che la squadra deve cercare e trovare un equilibrio tale da permettergli anche in casa di fare il proprio gioco e anche fuori casa di avere un atteggiamento un po' più propositivo in maniera tale da fare risultati con più merito. Momento positivo, invece, anche per suo figlio Massimo a Perugia, sta andando bene, si sta riprendendo qualche rivincita? No, rivincita, non si deve prendere nessuna rivincita perché dove è stato è stato bene, però chiaramente il calcio è fatto così, è fatto dei risultati, è fatto anche di uomini, di giocatori. Si è trovato in condizioni difficili sia a Udine sia a Crotone, adesso a Perugia, le condizioni sono migliori, anche se il campionato di Serie B è molto, molto difficile, molto livellato, quest'anno è ancora di più, direi. Punta a un ritorno in Serie A? Non lo so, è chiaro che è una squadra che potenzialmente potrebbe aspirare quanto meno ai play-off, poi andare in Serie A anche molto dipende anche da un pizzico di fortuna. Non lo so, è chiaro. Non lo so, è chiaro. Non lo so, è chiaro.